Giuliana Carassai, presidente dell'Associazione Strade d'Europa che organizza la festa dell'Europa Macerata dal 6 maggio si parte, qual è il programma? Il programma è articolato quest'anno, dal 6 al 9 maggio proporremo diversi eventi, i classici aperitivi nei bar caderiscono, quest'anno sono ben 66, quindi tutta la città di Macerata partecipa grazie appunto alla collaborazione degli esercenti, bar e ristoranti che hanno partecipato, che parteciperanno e poi andremo avanti fino a sabato con una serie di iniziative in collaborazione con diversi enti e associazioni della città, dall'inaugurazione domani di una mostra presso la Galleria Milioni ma in Piazza della Libertà, grazie a un progetto europeo che è Culture Use, fino a sabato sera in Piazza Mazzini dove chiuderemo con un concerto degli Obelisco Nero che sono appunto un gruppo di musicisti che ci faranno ballare appunto in Piazza Mazzini sabato sera e poi tantissimi altri eventi tra cui una giovedì 7 alle ore 17 nell'Aula 11 dell'Università di Macerata, un importante appuntamento dedicato ai giovani, agli studenti che potranno scoprire le opportunità di formazione e lavoro in Europa. Grazie appunto alla nostra collaborazione con l'Eurodesk, l'Eures della provincia di Macerata, lo Europe Direct e altre associazioni in quali Macerasmus e Grucaollus porteremo anche la testimonianza diretta di giovani che hanno già fatto esperienze di studio e di lavoro all'estero. Questo è un po' l'obiettivo principale, ecco lo spirito di questa iniziativa. Sì, tra l'altro quest'anno siamo stati inseriti all'interno della settimana europea della gioventù che viene promossa in tutta Europa, è partita già dalla fine di aprile, si concluderà appunto il 10 maggio e in Italia è organizzata e curata dall'Agenzia Nazionale Giovani in collaborazione con l'Eurodesk, essendo l'Associazione di Strade d'Europa, il punto locale Eurodesk di Macerata ha appunto collaborato e l'evento soprattutto del 7 maggio, ma tutto l'evento della festa d'Europa è stato inserito all'interno dei festeggiamenti appunto di questa settimana europea della gioventù, la Youth Week del 2015.